La regione Lombardia è lieta di poter essere la prima regione italiana e che io sappia la prima regione europea, il primo Stato europeo ad accogliere dei feriti in condizioni alcuni anche di gravità significativa. Il Ministero degli Esteri ci conosce già, sa che in precedenti occasioni quando si era rivolta a noi avevamo dato risposte particolarmente celeri e particolarmente efficaci. Ricordo i casi dei terremotati di Haiti e i casi delle vittime delle guerre del Libano in cui avevamo ricevuto ringraziamenti ufficiali e molto calorosi dai capi di quegli Stati. D'altra parte il nostro sistema è in grado di affrontare casi di tutte le gravità possibili e normalmente avvengono da parte del nostro sistema sanitario e dei nostri ospedali casi di accoglienza e cura di cittadini stranieri. Chi in altri Stati non hanno la possibilità di avere cure specialistiche come quelle offerte in regione Lombardia sono diverse centinaia all'anno di questi casi. Dopodiché l'attenzione si concentra in vicende come queste per risvolti politici e perché è un carico di 25 persone.